Voglio dare gli auguri di Sereno Natale a tutti i dipendenti della provincia di Napoli, delle società partecipate, a quelli che saranno le lavoratrici e i lavoratori della futura città metropolitana. Ci metterò tutto il cuore, tutta la passione, tutta la competenza e le energie perché insieme possiamo fare un buon lavoro. Il momento è difficile, il governo non ci ha accompagnato nel modo migliore in questa riforma, addirittura con un rischio di ricadute sullo stesso personale, io mi impegnerò al massimo affinché non ci possa essere nessun rischio per nessuna lavoratrice e nessun lavoratore. Insieme potremmo raggiungere dei traguardi importanti, con un lavoro di squadra, uniti, altrimenti sarà tutto più difficile e complicato. Per adesso, Sereno Natale e Buon Natale a voi tutti e a voi tutte.